Sarà realizzata la strada che collega il santuario della Madonna di Polsi con la statale 106 Ionica, un intervento di portata storica per rompere l'isolamento del santuario proposto dal presidente Mario Liverio nella seduta del 22 dicembre presso il Cipe e finanziato con circa 20 milioni di euro. Un luogo da restituire alla sacralità dei valori cristiani, lontano da volgari ambiguità. Un gruppo di professionisti è già al lavoro per redarre in tempi brevi lo studio di fattibilità e nell'emore della realizzazione del progetto saranno realizzati interventi di sistemazione e manutenzione dell'attuale strada di collegamento. Avevo assunto un impegno, ha detto Liverio, con i fedeli e con il vescovo Monsignor Francesco Liva, in occasione della mia visita al santuario nei prossimi giorni tornerò ad illustrarne la pratica e la concreta programmazione. Come si ricorderà in occasione della sua partecipazione festeggiamenti conclusivi al santuario di Polsi in onore della Santa Vergine della Montagna, portando il suo salute alle autorità civili, politiche e religiose e ai tantissimi pellegrini provenienti da ogni parte della Calabria e oltre, il presidente della Giunta regionale disse, tra l'altro, il nostro impegno è quello di rendere accessibile questo luogo di fede perché attraverso questa opera lancieremo al mondo un segnale concreto che è quello di una Calabria che vuole cambiare e che sta cambiando. Lo vogliamo fare, riferì Oliverio, anche perché la bellezza di questo santuario e le bellezze che lo circondano possano essere pienamente godute e fruite da tutti. Il santuario di Polsi, questo importante riferimento per i calabresi, concluse Oliverio, deve diventare il luogo da cui si sprigiona l'energia e che deve spingerci a lavorare e ad impegnarci perché gli obiettivi di riscatto e di crescita si realizzino. A quell'affermazione oggi seguono i fatti, un altro impegno viene quindi mantenuto.